Alex English oggi è un mito del basket mondiale ma da studente come altri ragazzi fu vittima dei bulli. Ora in Italia per insegnare ai ragazzi come fare per non piegarsi alla violenza. Francesca Sancini. Non alimentate il bullismo e se il bullo continua a prendervi di mira, andate dalla preside e dai genitori, non tenetevi tutto dentro. Non mantieni per te, lascia sapere. Per superare ogni ostacolo, a cominciare da quei bulli che adesso fanno paura. Roma, una lezione diversa voluta dal comune e dall'ambasciata americana, niente cattedra e la parola allo sport per dire no al bullismo e al doping. Lo sport è stato importante per me, in special modo il basket, perché mi ha dato fiducia in me stesso. Quando ho avuto fiducia nel mio gioco è stato più difficile per i bulli prendermi di mira. Dopo le parole, il parquet, per imparare a stare insieme, tutti diversi e tutti uguali, per diventare, come dice questa campagna, campioni di vita.